bella a tutti asfaltoni benvenuti e bentrovati sulle youtube in questo video andiamo a vedere l'evento speciale ats automobili gt questa è una caccia all'auto dura 14 giorni abbiamo 6 livelli già tutti sbloccati oggi quindi possiamo andare avanti quanto vogliamo e non abbiamo la benzina possiamo usare queste tre auto qua non c'è benzina quindi possiamo però abbiamo il carburante oddio non abbiamo ticket però abbiamo il carburante quindi non sarà illimitato però qualcosa si può fare andiamo subito a vedere quanto sarà il tempo di ricarica con la ats automobile per l'appunto andiamo a vedere i premi che andiamo a fare allora questi sono con la lamborghini e quindi andiamo a farle tutti e tre con sc 20 latina la sesta elemento 2 salti ats automobile batti il tempo automobili e batti il tempo di 41 secondi batti il tempo di 40 secondi e due salti a fare questi tre tentativi perché abbiamo carburante eccola qua un'auto di classe s quindi i tempi di ricarica saranno lunghi eccoci due salti ricordiamoli e batti il tempo di 40 secondi il primo salto eccolo qua secondo salto eccolo qua dobbiamo andare provare a dare la sinistra non ce l'ho fatta terzo salto qui non abbiamo ticket in questo evento ma non dovremmo aver ticket se non ho visto male però abbiamo il carburante quindi dovremmo aspettare sempre le ricariche 14 giorni 36 8 63 il tempo i due salti sono stati fatti andiamo a prendere tre e tre pacchetti che sono sei più un pezzo di importazione in quei pacchetti andiamo a trovare possiamo trovare un pezzo di importazione epico è scusate un progetto le sciamo ok niente di che solo credite quindi ce ne andiamo così adesso andiamo a provare le altre due auto per vedere il tempo che si fa lamborghini sesto elemento 5 agrobazie batti il tempo di 42 secondi dovrebbe essere abbastanza facile anche se andiamo a giocare con l'auto che abbiamo in garage quindi qui è gratuita ma una stella dalla fase successiva due stelle o io personalmente non potrò andare avanti se avete l'auto a più stelle potete andare avanti e e qui ho provato una manovra azzardata quindi mettiamo a rischio subito il tempo era comunque un tempo di 42 qui mi è partito 3.60 non ce la facciamo questo giro però tempo facile da fare andiamo a fare un'altra run niente nessun progetto anche qui questi li prendiamo dopo ah però la benzina non scala ok allora a posto è senza carburante ok ok sì sì perfetto senza carburante quindi qui si va ragazzi si dovrebbe fare la svelta perché si possono fare tante gare e poi magari in descrizione vi lascio un link allora iniziamo a fare le agrobazie da qua siamo già a 2 4 eccole qua già fatte ora andiamo a fare il tempo 42 secondi tempo alto da battere quindi è facile qui questa curva migliorandola mi va a guadagnare ancora molto più tempo eccoci qua 38 128 è facile da battere vi avevo detto prima qui 20 condizioni ah ok comunque ne abbiamo 20 ah quindi ok ok aspetta aspetta non è una caccia all'auto questa ma è una sorta di caccia all'auto perché se non andiamo a sbloccare l'auto non andremo avanti da quel che ho capito il secondo livello lo fai solo con la seconda stella ok qui le condizioni sono limitate a 20 ah ok no perfetto poi ci sono quelle con l'ATS che sono illimitate quindi perfetto perfetto bello questo evento facciamo un complimento alla game loft ma adesso andiamo a fare il 5 secondi in volo il tempo da battere lo facciamo anche senza guardarlo allora dicevamo andiamo a fare i complimenti alla game loft per questo evento che almeno si fa bene dovrebbero essere non dico tutti così ma quasi ok andiamo a fare questa run e poi chiudiamo chiudiamo il video intanto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e cliccate la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti e mi raccomando lasciate anche sempre un commento e mettete un bel mi piace ai nostri video vediamo se ho pacchato di superbia nel dire che avrei fatto il tempo si decisamente quindi andiamo a farne alcun altro ma se 42 ce la possiamo fare no niente ho preso male anche la rappa e infatti non l'abbiamo fatto il tempo ho 41 che è ok andiamo a farlo ora poi la mia questa è una sc20 alla terza stella su vado per la quarta e anzi dopo la vado a sbloccare tanto ragazzi mi raccomando fate squadra mettete un bel mi piace e iscrivetevi al nostro canale ok 5 secondi in volo ovviamente si fanno facilmente prima ho anche abusato andando altissimo questa rampa qua e con l'altro salto in fondo siamo già a posto buona 35 5 65 oltre 5 secondi sotto il tempo richiesto qui ci sono bei premi ragazzi ok allora chiudiamo il video mi raccomando ci salutiamo e ci vediamo con altri video ciao a tutti ciao a tutti